minimalismo e passioni quanti di noi pensano che non si possa fare non possano combacare le due cose insieme tu che ne pensi scopriamo dopo la nostra sigla tutto 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 eccoci qua eccoci qua ben tornati come sempre siamo mirko e gloria questa è la famiglia minimalista come sempre se ancora non avete fatto iscrivetevi al canale e commentate visto che ultimamente siete stati in tantissimi e ne siamo orgogliosi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito diciamo recentemente quindi noi siamo sempre qua e vi aspettiamo per chiacchierare un po così piano piano approfondiremo tanti argomenti e di fatti oggi uno oggi l'argomento di cui parliamo è quello che ci avevano lasciato scritto sotto uno dei video un commento sotto al video retizia e come promesso approfondiamo un argomento passioni e minimalismo passioni e minimalismo che apparentemente amore diciamo non combaciano però in realtà possono anche combaciare in che senso nel senso che un minimalista di solito rinunciando a superfluo si dice che comunque non c'è anche le passioni costose no generale proprio le anche alle versioni c'è anche le posso in realtà non è proprio così perché perché si può essere minimalista anche avendo passioni costose ovvero è il minimalismo non è quell'argomento così duro ferreo che in cui non si può fare nulla quello stile di vita in cui devi vivere con mezza sedia perché una è troppa mezzo letto mezzo divano anzi neanche cosa deve dormire per terra bla 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 tutte queste cose qua non è proprio così il minimalismo il minimalismo è un po più flessibile o almeno come abbiamo sempre detto quello che intendiamo noi rispetto a quello che viene spesso descritto in giro e quello che vogliamo sottolineare oggi è che non implica necessariamente delle rinunce estreme soprattutto cioè delle rinunce sì indubbiamente anche per poter andare a risparmiare poi qualcosina ma non devono essere estreme queste queste rinunce che vanno fatte cioè ci sono alcuni paletti che possono essere valicati diciamo perché non ci sono regole ferre è quello che abbiamo sempre detto e ridetto perché fondamentalmente il minimalismo si va a basare su dei principi base che poi per ognuno di noi sono diversi ovvero l'eliminazione del superfluo e il meno è meglio ciò non toglie o meno è più come preferite ciò non toglie che il minimalismo stesso non può comportare delle passioni personali che siano più o meno costose certo meno costano meglio è poco ma sicuro però può essere adattato perché non è o bianco o nero ci sono tante sfumature in mezzo abbiamo citato già anche il minimalismo a colore che purtroppo non fa più video comunque se ci siete battendo un colpo possiamo fare una chiacchierata volentieri quello che può essere è la riduzione degli oggetti superflui e come abbiamo sempre detto gli oggetti superflui quello che è superfluo per me non è superfluo per te magari no esatto quindi c'è questa differenza e andare a ricercare la felicità non nelle cose materiali ma nelle relazioni nelle passioni valorizzare quindi l'esperienza piuttosto che le cose che il possesso delle cose è importante capire questa cosa che il minimalismo non è una formula rigida diciamo ognuno comunque adatta al minimalismo al suo stile di vita esatto è un approccio un po più flessibile rispetto a quello che si millanta molto spesso in giro su blog video eccetera eccetera come abbiamo sempre detto ci sono vari gradi secondo noi anche di minimalismo quello che forse è il migliore il minimalismo medium abbiamo noi che non è né troppo blando né troppo rigido quali possono essere entrando un po più nel vivo nell'argomento delle passioni costose e come gestirle poi comunque possono costose magari la fotografia il viaggio la cucina gourmet il collezionismo di oggetti rai quindi che richiedono alla fine un investimento finanziario un po più sostanzioso ecco tolto ecco quella mia per esempio per la tecnologia per l'informatica che comunque si richiede un investimento finanziario negativo non lo richiede però costantemente perché una volta che hai fatto x computer poi hai comprato qualsiasi tipo di computer per un bel po stai a posto se hai fatto un buon acquisto altrimenti dopo poco devi andarlo a comprare certo magari ecco ogni tanto ti trovi un ospizio perché aggiungi un qualcosa che ti può essere utile ricordiamo sempre che a parte la passione deve essere anche utile questa cosa non deve essere buttata lì a caso ma quello di gloria per esempio anche i kindle che arriverà a breve il video anche i kindle sono una passione comunque costosa perché se te ne vai a comprare più di uno comunque costicchiano non sono proprio economici però finisce la poi certo tanto se devi comprare un libro cartaceo devi comprare il libro su kindle alla fine la spesa è sempre quella ti organizzi per poter arrivare a risparmiare diciamo qualcosina e analizzare più che altro le tue spese mensili e inviare quel budget che avanza magari vai a ripulire qualche spesa di più lo puoi destinare a queste azioni come quella di letizia che era la cosmesi se non era cura della skin care personale e scusaci in questo momento ci sfuggiva un secondo dunque a skin care skin care che però lei ha detto giustamente prima finisco prodotti che ho poi vado ad acquistarne altri soprattutto mi raccomando acquistati sempre sostenibili se vuoi anche sul nostro shop siamo là però anche questo comunque comporta certo non un investimento finanziario chissà quanto elevato ma comunque un esborso significativo visto che se vuoi prendere prodotti di qualità costicchiano diciamo costano un po di più quindi come poter gestire queste passioni andando a effettuare questo questa scrematura delle spese superfule per arrivare a avere un budget da destinare a queste passioni ovviamente una passione poi non è fine a se stessa perché comunque deve aggiungere valore la tua vita no? ti aggiunge valore perché se è una tua passione ti fa stare bene ti porta gioia soddisfazione e arricchimento ti arricchimento secondo poi ovviamente anche che cos'è può essere più o meno arricchimento però per esempio la fotografia ti porta magari a viaggiare di conseguenza o la cucina gourmet ti arricchisce di nuovi sapori quindi è un arricchimento comunque se hai nuove ricette che sai fare eccetera eccetera comunque c'è un valore intrinseco la passione è collegato anche allo stesso minimalismo perché perché l'obiettivo di entrambe le cose sia della passione che del minimalismo è aumentare la gioia nella propria vita portare serenità nella vita delle persone il minimalismo stesso può essere utilizzato per andare ad approfondire e valorizzare queste persone anziché come si pensa di limitarle perché più togli dalla tua vita il superfluo magari puoi anche decidere di fare una rinuncia in più anche se non è proprio superfluo superfluo quello che vorresti togliere magari fai quella rinuncia in più per dedicare un po di più qualcosa hai la tua passione in questo caso che ne so al kindle per gloria vabbè non me compro i trucchi non vado a cena fuori sto mese compro quella cosa per la mia passione poi le passioni sono miliardi di tipi nessuna è scusa da questo certo magari se ogni 5 minuti spendete 4000 euro magari non è l'ideale però comunque ecco portare la tua passione a un valore successivo uno step successivo da valore anche a te il minimalismo in questo aiuta perché può essere utilizzato per valorizzare dando a togliere altro superfluo quindi aiuta ancora di più la passione aiuta il minimalismo il minimalismo aiuta la passione così che potete andare avanti tranquilli senza sentirvi in colpa ti dà più gioia poi no? esatto ti senti molto più grado poi anche no? si e ricordiamo sempre che non è tanto il possesso ma l'emozione che vivi ovviamente che si possedere delle cose ok però se a te fa stare bene avere eh che ne so c'è chi colleziona i pops la come si chiamano i pop e le bucazzetti quelli la c'è chi colleziona libri chi colleziona fotografie quadri quello che volete sono tutte cose che comunque a te portano gioia non è superfluo e quindi viaggiano di pari passo con la concezione del minimalismo a tutti gli effetti si perché un minimalista può avere anche passioni per forza un minimalista non ha passioni anche costose esattamente e ovviamente anche perché le passioni stesse sono parte integrante della nostra identità cioè se non abbiamo passioni ma parte di noi no? se non abbiamo passioni se ognuno di noi non ha una passione diversa magari anche è difficile poi avere un'identità perché comunque l'identità di... si si ha comunque un'identità ma la passione la delinea ancora di più no? ancora di più si può risparmiare avendo comunque passioni anche costose magari? si si può risparmiare come si può fa? magari ogni mese ti metti che ne so tot soldi per la tua passione te li metti via e così magari ci compri quello che vuoi e ovviamente se... non intaccano diciamo il budget diciamo no? facendo il budget, analizzando le spese mensili andando a eliminare quelle superpre e spostare i capitali da un posto all'altro si può arrivare anche a risparmiare mentre si fanno le passioni perché ovviamente se riesci a metter via 200 euro un esempio stupido non è che vanno 200 tutti sulla passione magari 100 li metti via e 100 vanno sulla passione ad esempio o se quel mese è 50 e 150 per le passioni o poi il mese dopo al contrario poi dipende anche un po' della situazione ma comunque si può fare l'importante sempre stabilire obiettivi sia di risparmio sia per la passione quindi obiettivo di risparmiare tot obiettivo di spendere tot comunque quindi risparmiare tot per questa passione che hai e ovviamente non ci dobbiamo limitare soltanto al risparmio e alla passione vanno anche allocati questi fondi in altri obiettivi finanziari perché comunque poi domani oltre alla passione dovrai anche mangiare domani dovrai comunque magari investire in qualcos'altro mi raccomando è importantissimo andare a gestire questi fondi sia nel verso delle passioni perché ti fa stare bene ma ovviamente dobbiamo sempre tenere d'occhio sia il risparmio sia le emergenze sia magari la pensione per un domani eccetera eccetera l'integrazione della pensione quello che volete ovviamente la strategia principale è fare un budgeting mirato quindi mirare fare estivare per bene il budget reale reale seguendo quello che effettivamente vi entra seguendo tutte le indicazioni che abbiamo sempre dato quindi andare a scriversi tutto segnarsi tutto analizzare tutte le spese prima di fare poi fare il budget magari stringendo un pochino anche la corda per non poter risparmiare di più poi magari ti accorgi che puoi spendere 5 euro in più e così via andare ovviamente a effettuare quando qualsiasi cosa non solo per la passione acquisti consapevoli cioè comprare cose che realmente ci servono e che ci piacciono ma proprio consapevole non solo quello esatto non andare a spendere cifre spropositate magari per un qualcosa ecco almeno che non è la passione che quell'oggetto è estremamente raro trovi in offertona allora magari uno ecco a cosa serve pure mettere magari da parte mensilmente oppure ovviamente soprattutto in molte passioni si può fare anche scambio si può scambiare quindi io ho una cosa doppia per esempio tu non ti manca tu hai una cosa che serve a me oppure semplicemente anche sempre tornando al superfluo la vendita gli oggetti che non ci servono più quindi ci sono tante cose per finanziare appunto le nostre passioni esatto nelle nostre vite ci sono miliardi di cose e vado a vendere qualcosa per ricavarne qualcosa che invece mi piace esatto sia vendo sia qualcosa magari che non fa parte della mia passione che magari avevo da prima mi sono stupato qualsiasi tipo oppure anche oggetti che fanno parte della tua passione che magari vuoi cambiare vuoi vendere perché magari è in questo in un momento è giusto vendere perché ci guadagni molto qualsiasi motivo e diciamo gestirla tra scambio e vendita forse cercare molto anche l'usato e qualsiasi cosa ecco indagare prima di fare subito un acquisto indagare un po' di più ovviamente siamo arrivati in un video abbastanza diciamo rapido dai non è oddio breve quasi un quarto d'ora già stiamo non è quello però è breve non vi preoccupare se siete arrivati fino qua ci sono quattro fasi quattro parole chiave di questa situazione a conclusione del nostro video vogliamo ricordarvi perseveranza sempre c'è sempre la perseveranza rialzarsi crederci e circondarsi di persone che credono in te ovviamente perché? perché nei momenti difficili perseverare l'abbiamo detto è diventata la keyword del nostro canale perseverare la chiave e nei momenti difficili è facile buttarsi giù è facile smettere di fare qualsiasi cosa che sta facendo perché magari non porta risultati se invece perseveriamo superiamo gli ostacoli arriviamo ci si rialza dopo un fallimento perché può succedere di fallire non è un problema andiamo a crederci sempre di più perseveriamo con il nostro obiettivo l'importante è avere sempre un obiettivo ben fisso davanti a noi ci rialziamo ci crediamo arriviamo a un certo punto che sicuramente raggiungeremo quell'obiettivo magari ci vorrà del tempo ma l'importante è continuare 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 l'idea non la cambia soltanto lo stupido le altre persone cambiano idea quindi per raggiungere quell'obiettivo ci può stare dovete cambiare un po' il piano un po' il percorso un po' idea perché magari avete sbagliato un qualcosa o sbattete contro muro e dovete tornare indietro ci stanno varie cosette l'importante è riaddrizzarsi crederci e perseverare ovviamente è una cosa molto importante noi siamo le 5 persone con cui siamo di più esatto frequentiamo di più con cui viviamo quello che dipende poi da quella famiglia numerosa se vi vede 5 dentro casa è normale che sei tutte quelle persone però comunque quelle che frequentiamo diciamo di più queste persone comunque ti devono incoraggiare devono sostenerti queste persone che devono credere in te perché ovviamente ti danno un equilibrio in tutto quello che fai quindi anche quel equilibrio l'equilibrio tra minimalismo passione anche costosa e la gestione finanziaria che ti aiuta a fare questo ma questo vale per la passione vale per un obiettivo lavorativo per tutto vale per qualsiasi cosa un obiettivo di vita avere sempre persone che sono con te e non contro di te perché le persone contro ne avrete a bizzeffe cercate di circondarvi nel più stretto della vostra vita di persone che credono in voi e vi aiutano e non vi abbattono detto questo noi ci rivediamo al prossimo video ciao